Tanto è vero che diamo spazio ai ritorni A gente che dice Ritorno a portare davanti Guess who's back Quattro ritorni Mi sono sognato Non è l'unico ritorno Pezzi 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 Questa voce mi è sembrato di vedere un gatto Un po' di romagnolo Romagnolissima Ma anche internazionale Ma anche una delle donne dell'anno Ma ha vinto anche un gol del globe Non ci credo Laura Pausini Laura Pausini la sigla di pezzi Grazie ragazzi Siamo tornati We are back Luca Dondoni Paolo Giordano Per un'altra puntata di pezzi E raccontarvi quello che c'è dentro la musica Come d'altra parte titola il nostro logo Una puntata che ci vede tornare Dopo che avevamo commentato Il Festival di Sanremo 2024 Ne sono successe di tutti i colori Ah torna Amadeus Ah no è vero C'è Amadeus un'altra volta Facciamo i conti dai col Festival Ah brava Ma anche questa è una battuta Una battuta E beh d'altra parte insomma Il nome che pare essere assolutamente più sul Come si può dire Sul podio più alto Fra quelli che Dei quali si parla Potrebbero diventare direttori artistici E presentatori del Festival di Sanremo C'è Carlo Conti Non ci nascondiamo Lui stesso Fino adesso Se io fossi stato per esempio Uno di quelli che Non l'avrebbe fatto Avrei detto no Tipo No signori Non sono io Anzi lui ha fatto delle dichiarazioni Dicendo Io l'altra volta L'altra volta Ero sul pezzo Capivo la musica di quella generazione Se mi rendo conto di capirla Potrei tornare a farlo Cioè Lui potrebbe essere Non è una soluzione sbagliata Se sarà questa Potrebbe essere la transizione Tra Tra Amadeus Che è andato a fare la prova del nove Ma Scusate Queste battute qui Ne la fai se la ride Ma no ma neanche proprio Gene Hackman Nel peggioro dei suoi film Però Però ha vinto l'Oscar Aspetta Credo che sia la transizione Anche perché Con Conti Eventualmente Al Festival di Saremo Bisogna Iniziare un'altra storia Sì però Paolo hai detto una cosa giusta Mi sento di poterla dire Come d'altra parte Siamo tutti quanti d'accordo su questo A noi Non stiamo a fare nomi e cognomi Gente in Rai Ci ha detto Il prossimo presentatore Direttore artistico Sarà il pontiere Che porterà Alla direzione artistica Del futuro Magari lo farà per una volta E poi basta Lo diciamo chiaro e tondo Carlo Conti Se lo farà E questi sono i rumors Di cui si parla Hanno proposto inizialmente Un anno Ha detto di no Ha detto Io lo faccio Semiliate almeno Due anni di festival E sui due anni Cioè sull'ok Della Rai Rispetto ai due anni Di Carlo Conti Sarebbe partito il sì Questo è un po' il pre E attenzione Dai rumors I discografici Sono tranquilli Perché avevano il timore Che potesse arrivare qualcuno Invece tutti Nelle chiacchiere Dicono Ah ma con Conti Abbiamo sempre lavorato bene È il più gran signore Che c'è È quello che ti ascolta Quando porti qualcosa È la cosa che dà Comunque una soddisfazione gigantesca Anche sulla fiducia È che due anni Di meno Secondo voi In questo caso È chiaro che sia Fanta Festival Perché diamo per certo Carlo Conti Ma pensando di non sbagliare Manterrà invece La linea artistica di Ama? Secondo me sì Anche perché Come dire Carlo Conti È uno che Ha avuto lo stesso passato Di Amadeus Cioè è partito dalle radio Quindi è uno che Ascolta Per deformazione Quello che è andato Sebbene poi faccia programmi Come I migliori anni Eccetera Eccetera Che guardano al passato Però se ci pensate Carlo Conti Ha portato Un inizio di innovazione A Sanremo Ma sì Ma poi adesso Però non ha un figlio Che si chiama Sì Vabbè Osè Aspetta Però sai In questo momento Sai che in tanti dicono Che Amadeus Sì faceva bene i festi Sceglieva bene Ma sceglieva molto Anche suo figlio Che Che lo stiamo dicendo nel bene Perché Ama è un amico Gli vogliamo bene Che lui stesso ha detto Ascoltava molto Perché perfettamente Nell'età Di un ragazzo Che amava I vari gruppi nuovi Che lui portava Luca io penso Che anche se Lo presentasse Albano Quello che ha iniziato Amadeus E prima di lui Baglioni È un percorso Senza via di ritorno Cioè non puoi Nel senso che secondo me Amadeus Ha dimostrato Che anche i cantanti Sconosciuti A quello che immaginiamo Essere il classico pubblico Di Rai 1 Non ti fanno perdere Ascolti Anzi Ti fanno fare degli ascolti Questo bravo E bravi È il messaggio più forte Che è arrivato In questi cinque anni Non avere paura Dello sconosciuto Non puoi tornare indietro È perfetto Quindi insomma Staremo a vedere Quello che succede Secondo me Non chiedo anche a voi Ma me lo chiedo Ce lo chiediamo Quando daranno L'ufficialità Perché ormai Manca poco Eh la Rai Ha sempre detto Che bisogna cominciare A lavorare presto E così L'altro giorno Parlavo con Un alto papavero Rai Diceva Sì però Attenzione L'anno di Baglioni Il primo anno di Baglioni È arrivato A Ferragosto Praticamente I contatti Sono arrivati a Ferragosto E l'ufficializzazione Subito dopo Certo è tardino È tardino Perché vorrebbe dire Quello che è successo Ad Amadeus per anni Non fare le vacanze Ad Agosto Perché devi ascoltarti I dischi lì Perché poi a settembre Devi dare i nomi Facciamo questo gioco Se voi aveste in mano Una canzone fortissima La buttereste fuori Quest'estate Per vincere Il momento dell'estate Il tormentone O ve la tenete via E la proponete Al prossimo direttore artistico Ma non c'è gara Io penso che Non ci sia gara Se ho capito Quello che dice lui Io dico che non c'è gara Perché tra tormentone Sanremo Non c'è gara La porta a Sanremo Però bisogna vedere Che tipo di canzone è Bisogna vedere Che tipo di canzone è I Colors Sono andati meglio L'estate scorsa O con Sanremo Per me un ragazzo È una ragazza Va lunga Secondo me Meglio con Sanremo Sì ma non vince Probabilmente non vince Il tormentone dell'estate La canzone La canzone Cioè Loro vanno in tour In Europa Con quella canzone Avete ragione E vi aspettavo qua Ma il tormentone dell'estate Che numeri fa Perché attenzione Un conto E allora Il discorso è Diventare per un mese Quella canzone Che non riesce A levarti dalla testa Sì diventi Il tormentone Eccetera Ma quanto lunga diventa Che poi alla fine A settembre è finita Ah sì ma hai ragione Hai ragione Ma dipende Che cosa ti aspetti Che cosa sei disposto a perdere Cioè Se tu hai Che cosa sei disposto A perdere Cittazioni Cittazioni Giovanotti E capito E quindi bisogna Mi fate ridere Con voi Impossibile Matematicamente Impossibile Fare qualsiasi discorso serio Perché mi castrate sempre Comunque La soluzione è questa Devi avere due pezzi forti Ne presenti uno d'estate Diventi la bomba Dell'estate E poi ti deve richiamare E poi ci saremo No questo è vero Sì però dipende Che penso hai Ecco insomma Detto questo Posso lanciare così Uno spillo Uno stuzzicadente Ma secondo voi Il prossimo Sanremo Visto che la Rai Sta cambiando così tanto E sta perdendo Così tanti pezzi Cambierà qualche cosa Anche dal punto di vista Diciamo Politico Del regolamento Dici Regolamento Personaggi Ospiti Inviti Politico Marevenier Secondo me Una delle modifiche Che entreranno Nel regolamento È che si torna Al cantante Che non può più interagire Lo metteranno come Ha rotto le scatole Il Fantasanremo Ma sarà per segare Il stop al genocidio Di Galli Sì sì Il cantante Non può parlare più Sul paio Cioè Ti ricordi una volta Paolo Tu pensi no No non penso Si può essere Di pace Panzeri Pilat Paolo Giordano Zitto Vai Canti Dirige Non lo so Perché Sì può essere Però Non penso Che possa Basta Non prendere gente Che dica Stop al genocidio Appunto come fai Ma comunque Io penso che Non si tornerà indietro Rispetto ad Amadeus Penso che Il festival Saremo Io ci andrei Se avessi qualcosa Da dire Ma penso anche Che c'è uno Che sicuramente Non tornerà Il prossimo festival Mahmood Li ha vinti tutti Praticamente Già basta Come ha detto Ci ha raccontato Mahmood Questa cosa Che un suo amico Gli ha detto Alessà Tu a Sanremo Fai sempre bene Ma dopo È il resto dell'anno Che è un casino Beh da non gliela tirate Detto questo ragazzi Vi do un'altra stuzzicata Vi ristuzzico E questa notizia Che gira Che gira Che gira Che gira Che media Se ti vorrebbe portare via Sanremo alla Rai Assolutamente no No anche secondo me Perché Al di là del fatto che Scade La convenzione Assolutamente no È la solita manfrina Se posso permettermi Di chiamarla manfrina Che poi insomma È nelle regole Nell'ordine delle cose Quindi Scade la convenzione Il sindaco Di Sanremo È uscente Arriverà un nuovo sindaco Mi dispiace Perché l'uscente Ci è simpatico Ogni volta Si fanno questi discorsi Ma il festival di Sanremo Fatto ad Assago Fatto su Canale 5 O sulla 7 O sul 9 Secondo me Non ha senso In questo momento Dopo tutto Quello che è successo Dopo tutto Il gigantesco Lavoro di ricostruzione Che è stato fatto Aspetta Aspetta In più Non conviene a nessuno Avere il festival di Sanremo Se non alla RAI In questo momento Cioè Io Mediaset Non vedo Mediaset avere amici E il festival di Sanremo Guarda il polso di Luca Altra provocazione Ma quindi tu pensi che Si parla fra di noi Fra giovani Non giovani Meno giovani Gente che fa comunicazione È il 2024 2025 Sta cambiando tutto La comunicazione Boomer Contro boomer Non c'è più la moneta Ormai si paga solamente Con le carte Le app E voi dite Che l'Ariston Rimane Fermo Cosa ci vuole A Corciabro Il discorso di Luca Arriva a Corciabro E dice Allora All'Ariston No Cioè voglio dire È impossibile Che sto festival Non cambierà mai La location E rimarrà sempre lì Ci sarà Secondo voi Un giorno in cui Sapete che c'è Regolamento nuovo Festival Di Sanremo Ma non all'Ariston Accadrà quel momento Questo può essere Ma dipende appunto Dalla convenzione Del teatro Con il comune Con la RAI Secondo me Fino a che funziona così Fino a che funziona Perché investire dei soldi Bruciare qualche milione di euro Sicuramente qualche lavoro Ulteriore Ci sarà da fare Per adeguare Alla struttura Quelle che sono le necessità Le urgenze Io so solo che tutti gli anni Noi andiamo lì E c'è gente che si lamenta Dall'inizio alla fine Di un sacco di cose E poi stiamo sempre là È vero Ed è l'unica cosa Che non cambia È vero che l'altro giorno Noi siamo stati in un club All'estero Al paradiso di Amsterdam Il paradiso di Amsterdam Non è che Diciamo Il dietro Nonostante non sia un set televisivo Ma il dietro Sia molto migliore Sia stato molto migliore Quello che abbiamo visto Ma non è tanto quello Qui stiamo parlando di un'altra roba Stiamo parlando del fatto Che se la rivoluzione Deve essere fatta Deve essere fatta Dalla base E lì bisogna cambiare Ma no Ma io non credo Io penso che invece Rimanga lì Che sia giusto Che rimanga lì Per un po' Non per sempre Ovviamente Per un po' Non per sempre Cosa vuol dire? E' come dire Beh allora L'arena di Verona Non va bene Perché è così Beh facciamo Puccini Interpretiamolo Al teatro Perché l'arena di Verona Non va bene Io prendo i popcorn Guardo Ma perché non è un'opinione Ma no Tu non è un'opinione E allora Togli i popcorn Tu secondo me Stai facendo il politico Tu stai facendo Il politichese Questo qua Stanzitando Manda avanti noi Che a lui Gli scappa da ridere Cosa ne pensi? E poi dopo Dopo Comunque Entranno le cose E dirà Che ha ragione Certo All'hanno detto loro Tu cosa dici? Io dico che Sono stufo Di parlare Solo di musica italiana L'Italia Si sta chiudendo Troppo su se stessa L'autarchia musicale È un limite Siamo troppo autartici Non ho sentito La parola Sanremo Stavo chiedendoti di Sanremo Hai sviccolato Svicolone Il politico Svicola sempre Come ti conosco Mascherina Vabbè Facciamo una bella cosa Basta musica italiana Ma è il momento Ragazzi C'è fuori Il disco di Taylor Swift Appena uscito Beyoncé Da poche settimane Due colossi E noi parliamo ancora di Sanremo E di musica italiana Come siamo antichi E tu parli dell'Arison E tu parli dell'Arison Perché il piano politico È anche quello che Beyoncé Cowboy Carter Taylor Swift Tortured Poet Reparment Ragazzi Qui c'è qualcosa da fare Sono due album storici Di personaggi Che stanno cambiando la musica Abbiamo parlato del fatto Che mai nessuno Come Taylor Swift Può cambiare addirittura Il pil di uno stato Nessuno mai Nel passato Ci è riuscito Stiamo parlando di Madonna Stiamo parlando di Ma anche gli stessi Beatles Vogliamo andare più indietro Cioè questo qui È veramente È un caso sociale Sì Sono d'accordo Sono d'accordo Specialmente Per quanto riguarda Taylor Swift Che è la Diciamo È un computer È un PC Della comunicazione È un laptop Della comunicazione Non perde un colpo Non sbaglia un colpo Ha un'influenza incredibile Soprattutto Sul pubblico americano Pensate che Alle ultime Presidenziali Lei non si è schierata E infatti La speranza di Biden A questo giro Che lei si schieri Così vince di sicuro Ma All'ultimo Non si è schierata Ma ha detto Ha detto Con Un post Ha consigliato Il suo pubblico Di iscriversi Alle liste elettorali E di votare E c'è stata Un'esplosione Delle iscrizioni Perché sapete Che in America Bisogna iscriversi Prima di poter andare a votare E ha detto Mai In mezz'ora C'è stato Un picco Così alto Di iscrizioni Mai Anche se Einstein Elvis O i Beatles Quindi praticamente Fa come la regina Elisabetta Che non dava indicazioni Diceva quella parolina Esatto Che bastava cambiare qualcosa Quindi è la regina Elisabetta del pop È la regina Bravo È la regina Elisabetta del pop E Beyoncé Che cos'è però È la Beyoncé è Sicuramente no È sicuramente una regina Una che a sua volta Insieme anche a Jay-Z Che è il compagno Ha un'azienda Da Billioni Di dollari Mi piace come dice Billioni Billioni Mi dice come Come se fosse Mi fai venire in mente Alice Cooper Billion Dollar Baby Mi fai venire in mente Quella roba lì No però è così Di fatto ha dimostrato una cosa Posso dirlo Visto che sono non solo Un fan di Beyoncé Ma sapete che mi piace molto Quel tipo di mondo E di musica Ha dimostrato che Ma quindi ti piace il country adesso Mi piace il country Che fa Beyoncé Texas Hold' Texas Hold' A me è piaciuto molto Mi è piaciuto Mi sono piaciute anche alcune canzoni Country di Taylor Swift Perché lei da lì arriva Da lì arriva Ma infatti Io e lui ci siamo parlati Anche sui social su questo Il disco di Beyoncé Non è un disco country Nel senso banjo Eccetera Due pezzi e mezzo country Ha due pezzi e mezzo country Ha però aperto un dibattito Non solo Non solo È arrivata con Texas Hold' Ma il numero uno Dei dischi country Mi è venuto in America Quindi questa è una promessa Ma con le radio country americani Che dicevano Non la trasmettiamo Contro Perché è una ragazza di colore Perché è una ragazza di colore Facendo un errore Totale Perché lei è Texana Perché lei è a Texana E perché esistono Fior fiori di artisti di colore Che fanno country da sempre Quindi questa è un'ignoranza basale Rispetto a certi comportamenti Ma no è proprio Reazionaria Triste Però io ci ho trovato anche tanto Come dicevi tu prima Paolo Se Taylor Swift è comunicazione Anche Beyoncé lo è tanto Perché Assolutamente Sembrava C'era l'attesa Perché questo Sarebbe stato il disco country di Beyoncé Esce il singolo E oggettivamente È un singolo country E poi come dice Luca Ci sono due pezzi C'è un pezzo che è Hip hop puro No hand to hand È un pezzo R&B Tra i più belli che ho sentito Anche Ci sono ballad Che Ok Esistono ballad country Ma se non ci metto Nessun suono tipico del country È una ballad Pop La cosa che mi ha colpito Scusa È che Secondo me Tantissimi ragazzi e ragazze Andranno ad ascoltarsi Cose country Solo Mi permetto di Però noi non è che vogliamo fare Facchiacchi cattivi Però le cose le diciamo Ma la delusione di Justin Timberland Ah bravo Bravo Non possiamo non parlare di quello Che era un disco Mi sembrava il 2015 Quando ascoltavo il suo disco In realtà sono passati Cioè ha fatto pezzi belli Uno via l'altro Un'attesa su questo disco Tremenda Ed è una ciofeca Incredibile È vero Sono d'accordo Ed ha l'idea che se uno fa Troppo l'attore E poi si mette Insomma fai fatica Ma lui è andato dietro troppo al momento Se tu senti il disco di Justin Timberlake Ha dentro dei pezzi addirittura Che sembrano quasi trap Sicuramente molto ai tutunati In questo momento Che sei fuori linea Cosa che non fanno Né Beyoncé Né Taylor Swift Ed è la cosa che mi colpisce Siamo E lo dicevamo prima Sanremo L'estate Si punta sempre Alla hit È vero che l'album Non conta più Ma io mi domando Perché Le due principali artiste Quelle che diventano Il fulcro della comunicazione Qualsiasi cosa facciano Che spostano le elezioni Che spostano il PIL Quindi Come dire Non due che fanno Una cosa di nicchia Un bel successino Hanno fatto due album Bravo Perché anche quello di Taylor Swift Non ha dei suoni Che cercano di copiare Quello che funziona Cioè anzi Piuttosto È un misto Fra Qualcosa di molto rilassato E con un tocco Diciamo Di glitterino pop Però è il disco Di Taylor Swift Staglia altri copiare In Italia ci manca Secondo me Questo Perché gli artisti italiani Non puntano a fare un disco E puntano solo a fare una hit Rivolgendosi sempre Agli stessi autori E quindi Dove sta l'identità Di un artista Sai perché Perché c'è proprio Sta dentro gente come Vasco Brondi Che fa un disco Della miseria Perché Però lì rimaniamo nel mondo Della nicchia Io mi domando perché Perché noi non abbiamo Scusami ti interrompo Perché su questo Mi infervo Noi non abbiamo Noi non abbiamo la consapevolezza Di quello che siamo Cioè Taylor Swift Dice ok Io faccio un disco Nuovo Non è nuovo Non è innovativo Ma è il mio disco E io sono un termine di paragone Tra di noi Mi sono sognato Non è l'unico ritorno Non è l'unico ritorno Aspetta Comunque mi piace È come parliamo Stiamo parlando bene Abbiamo studiato Quindi voglio dire Ritorno dei Di Rotta su Cuba Tre date Per celebrare Il trentesimo anniversario Peraltro Cercateli Andate a trovarli Simona Bencini È una cantante Sopraffina Che non si è dimenticata Delle belle cose Che ha fatto Con i Di Rotta Con il suo gruppo Che nel momento Dell'esplosione Essie Jazz Anni 90 In Italia Sono stati assolutamente Una linea Di paragone Ritorno Degli Zero Assoluto Nel 2025 Al Forum A me piacerebbe sapere Nel momento In cui Gli Zero Assoluto Decidono Erano No Nel momento In cui erano al top In cui facevano i pezzi Che andavano al numero uno Nelle radio Come dire Di default Automaticamente Saranno riusciti A fare Un club Pieno All'epoca E oggi Fanno il forum E oggi Fanno il forum Non è un ritorno Non è un ritorno Ma è più un rilancio I Finlay I Finlay I Finlay I Finlay Che erano stati Il fenomeno Team Pop Sembravano una Boy Band Punk Italiana Tutti poi Gli abbiamo dati Per morti In realtà Hanno continuato A suonarsi 40 date Nei piccoli club Per le province Eccetera Eccetera A fare pezzi Però anche loro Adesso Fanno un disco Di ritorno Cioè di ritorno Di rilancio E il forum Anche loro Ma perché voi Non avevate dati Per morti i blu I blu Sono tornati i blu Dal vivo A parte che sembrano Il papà e la mamma Dei blu Cioè i loro I blu Che con il loro Papà e mamma Cantano Invece sono loro Che sono diventati grandi È un po' come Gli NSYNC Li vedi adesso E si sono C'è l'NSYNC Il loro fenomeno Stranissimo Il loro fenomeno stranissimo Si Nel blu Baddy Un disco Del quale si parla molto Peraltro una ragazza Che è rimasta Molto nella sua nicchia Non ha fatto Tantissimissima promozione Ma è rimasta An alta Nell'hype Di chi segue Il rap italiano E tanto si parla Di quante poche Ragazze O donne Facciano rap Con Big Mama Si è parlato a Sanremo Della mancanza Di un certo Rap al femminile Beh lei Secondo me È da seguire Big Mama Che tra l'altro Si lancia anche In una veste inedita Di conduttrice Insomma del Pre primo maggio Il festivalone Del primo maggio In televisione Dove ci saranno Due cantanti A condurre Perché Paolo Invece di Non c'è più Ambra Non c'è più Ambra Ermal Meta E Noemi Che è una Coppia inedita Secondo me Potrebbe funzionare Molto bene Perché hanno Sensibilità vicine E È un segnale Il fatto che Sia andato via Ambra Ermal Meta Il primo maggio Che Ad esempio Il concetto di Radio Italia Non ci siano più Luca e Paolo Storici conduttori Eccetera E che Che ne so Al Future Eats Di Radio Z Ci saranno I conduttori Delle radio Che presentano I cantanti Solo per pezzi Io non credo Che si sappia Anzi Sono sicuro Che non si sa Ma avremo Quest'estate I Trent'anni Di carriera Di Bocelli E in questi Trent'anni Al Teatro del Silenzio All'Aiatico All'Aiatico Arriverà Un gigante Del rock Vi do una descrizione Brevissima Riccioli Adesso bianchi Suona la chitarra Suona la chitarra Mamma mia Mamma mia Si chiama Brian Allora viene Brian May Day Queen Ho un solo per pezzi Ho un solo per pezzi Mi sovviene così Mi avete stimolato Solo per pezzi Allora c'è questa ricerca Delle canzoni Dell'estate Le canzoni che girano Sui tavoli Dei discografici Degli editori A chi la facciamo fare C'ho il provino di questo C'ho il provino di quello Qua il rischio Che qualcuno rimanga Col cerino in mano Cioè senza canzone No magari ha la canzone Ma non trova con chi farla E questo potrebbe essere Fedez Che sta facendo fatica Ha registrato un pezzo Con Rondo da Sosa Però pare che non uscirà quello E allora Rimane col cerino in mano Nel giro delle serie Cioè solo per pezzi Che c'è un singolo Con Fedez Rondo da Sosa E sto singolo non esce Sì ma in più Che Fedez Fatica a trovare L'accompagnamento Cioè quest'anno Il tormentone di Fedez Quest'anno Per tanti Che Fedez Però non riesca A trovare l'accompagnamento Da quello che si vede Non sembrerebbe così Perché insomma Qualcosa Qualcuno Insomma si dice Si sta parlando di musica La vita privata E l'arte Sono due cose diverse Lasciamole da parte Allora va bene Comunque sia Abbiamo raccontato Di un sacco di cose Prima puntatona Di questa nuova Leg Come si dice Questa nuova gamba Di un Pezzi Tre uomini E una gamba Di un Pezzi Che ormai è tornato E alla grande Grazie ancora Laura Pausini Perché ci ha regalato Questa bella sigla Che ci seguirà Per un po' di tempo E che dirvi Se non Ci risentiamo? Ci risentiamo Assolutamente Ci risentiamo Prestissimo Ciao Pezzi 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 Pezzi